Telenova Giornale Il padre Iblea guarda con fiducia al futuro. Sono tre gli eletti in provincia di Ragusa, Venerina Padua, Maria Lucia Lorefici e l'uscente Nino Minardo. Dopo la vittoria alle primarie del Partito Democratico, la ciclitana Venerina Padua è risultata terza al Senato nella lista del Partito Democratico Circoscrizione Sicilia. Conferme per l'uscente deputato Nino Minardo, quarto alla Camera in Sicilia orientale nella lista del Popolo delle Libertà. Infine un volto assolutamente nuovo, Maria Lucia Lorefici, 32enne, originale di Rosolini, ma residente ad Ispica, che è quarta nel Movimento 5 Stelle, laureanda in lettere moderne e la Lorefici impartisce lezioni private. Un altro ragusano, l'ex presidente della provincia di Ragusa, Giovanni Mauro, è stato eletto in Campania, dodicesimo nella lista del Partito delle Libertà al Senato. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito in provincia di Ragusa. I grillini ottengono il 39,30% alla Camera con 62.358 voti e il 34,58% al Senato con 49.791 voti. Poi il PDL 22,25% e il 21,90% rispettivamente alla Camera e al Senato e il Partito Democratico il 19,21% e il 20,39%. Nella città di Ragusa il Movimento 5 Stelle è sempre primo con 16.586 voti alla Camera, che è pari al 40,92% e 13.237 voti al Senato, pari al 35,55%. Nel capoluogo il secondo partito è il Partito Democratico, con 8.053 voti alla Camera, 19,87% e 7.850 voti al Senato, cioè la percentuale del 21,08%. PDL invece 7.631 voti con il 18,83% e 6.800 voti con il 18,31%. Un progetto che mira a coinvolgere le eccellenze italiane per favorire lo sviluppo dell'artigianato e l'inserimento lavorativo di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti. Questo è d'altro all'interno di DOP, dentro e oltre la professione, percorso finanziato da Italia Lavoro all'interno della misura Bottega di Mestiere, che prevede l'attivazione in provincia di Ragusa di 20 tirocini formativi presso alcuni centri di eccellenza del settore lattiero caseario. Una grande opportunità per il territorio ragusano, Bottega di Mestiere è il dispositivo realizzato da Italia Lavoro che permetterà l'attivazione di tirocini finanziati a favore di giovani di età fino ai 28 anni, i quali avranno la possibilità di acquisire competenze trasversali nei settori artigianali, nella provincia di Ragusa, il settore è quello del lattiero caseario. Avranno la possibilità di beneficiare di una borsa di studio di 500 euro mensili per sei mesi. La sperimentazione qui a Ragusa durerà un anno. Sicuramente l'importanza di questo percorso formativo sono di due livelli. Uno, questo rapporto che il consorzio ha costruito con Italia Lavoro nel partecipare ai bandi di Italia Lavoro e quindi di fare un passo avanti rispetto agli inserimenti lavorativi. Poi il fatto che il progetto comunque dà opportunità a 18 giovani per due anni di fare esperienze in azienda in un settore che è un settore trainante della nostra economia. Considerate che a Ragusa si produce l'80% del latte della regione siciliana e considerate anche che questo progetto si sviluppa tutto nel lattiero caseario. Quindi veramente riprendiamo i mestieri trainanti della nostra economia e li portiamo vicino ai giovani. Io sono molto soddisfatto per il lavoro che hanno fatto i progettisti del consorzio, per il lavoro che è stato fatto con questo progetto. Sono soddisfatto per la collaborazione non solo di Ragusa Latte che è capofila del progetto e che veramente c'è stata una collaborazione fattiva ma è una collaborazione che, consentitemi di dire, nasce anche all'interno di Conf Cooperative dove sia il presidente del consorzio che sono io che, rappresentante di Ragusa Latte, siamo entrambi vicepresidenti di Conf Cooperative. Però sono molto soddisfatto di questo rapporto che si è creato con tutto il settore lattiero caseario che ci vede come consorzio protagonisti nel promuovere ancora una volta inserimenti lavorativi di giovani, di giovani disoccupati e di fare un inserimento lavorativo di altissima qualità. Ragusa Latte è capofila di questo progetto. Ragusa Latte che cresce nella produzione e nella trasformazione, che investe sul territorio pro i suoi produttori per avere un ruolo significativo sul territorio di Ragusa e quindi investe sui giovani di Ragusa per specializzarne la formazione professionale all'interno di quello che è l'area vitale di Ragusa, che è la parte agricola. Non più una piattaforma virtuale ma un modello operativo per uno scambio di informazioni nel settore del commercio e dell'industria. Ragusa Digitale nasce dalla fattiva collaborazione con i giovani industriali. Alla sala giunta della Camera di Commercio il primo incontro. Ragusa Digitale non è altro che un network nato intanto sul web, però appunto digitale, un gruppo su Facebook, quindi come indigeni digitali con un gruppo network nazionale. Abbiamo pensato, o meglio Roberto Chibaro e altri a suo fianco, ovvero Stefania Vitali, me e Emilio Pavia, abbiamo pensato di creare un gruppo di indigeni digitali anche a Ragusa. Oggi il gruppo non è più solamente virtuale ma è diventato anche fisico grazie all'aiuto di Mario Molè, del gruppo Giovani Confindustriali di Ragusa, che ci ha permesso di incontrarci fisicamente e di presentarci. Quindi già il gruppo di Ragusa Digitale è ufficiale e ci conosciamo i vari utenti perché abbiamo avuto modo nei precedenti aperitivi che abbiamo potuto organizzare all'interno di Confindustria Ragusa di presentarci e di conoscerci a vicenda. Sicuramente l'inizio sono stati questi aperitivi di presentazione. Domani abbiamo già in programma diversi eventi sia di formazione che di informazione. Per esempio porteremo il Google Developers Group a Ragusa, questa è già una notizia che possiamo anticipare, in quanto il GDG Catania da me rappresentato ha pensato di fondare anche una sua branca qui a Ragusa. Ma prima di parlare del GDG dovremmo anticipare cos'è un Google Developers Group, ovvero sì è una community di sviluppatori e passione di tecnologie Google che finalmente creeranno una propria base anche a Ragusa. E quindi riusciremo a portare Android o varie integrazioni Arduino Android, HTML5 e altre tecnologie proprietari Google e open source anche a Ragusa e daremo modo di formare e informare su queste tecnologie. Domani abbiamo già in programma un primo evento che sarà organizzato dal GDG Catania-Ragusa, insomma ci sarà questo passaggio di testimone fra Catania e Ragusa con un evento dedicato a Google Apps e quindi alle email, calendar eccetera nelle aziende. Una vittoria che mancava da tempo. La pallamano Reusio nel campionato di Serie B conquista l'intera posta in palio nel match casalingo con Catania e guardo con fiducia al futuro. Prossimo impegno tra due settimane a Palermo. Come ha detto il Presidente è stata una vittoria importante per il semplice fatto che dovevamo interrompere questo periodo nero. Il periodo nero che era comportato solo da sconfitte e malumore da parte dei ragazzi perché eravamo ritornati sotto tono. Non ci potessimo giocare così il campionato. Crediamo di poter dare di più e sabato in casa è stato quello che abbiamo fatto. Abbiamo creduto e abbiamo dato il massimo. Adesso una trasferta insidiosa in quel di Palermo. Chissà, magari Ragusa tenterà il colpaccio. Allora il Villauria è una squadra che è sembrata da cuscinetto nelle trasferte ma in casa ha avuto sempre un organico importante. Quindi sarà difficile e ci stiamo preparando. Ora la partita sarà giorno 16. Abbiamo tre settimane per pensarla e programmarci quanto più possibile per l'inmatch. Non abbiamo intenzione di perdere. Cosa è mancato fino adesso a questo Ragusa? Come dice il nostro mister, come diceva Saro all'epoca, era solo grinta e voglia di vincere perché magari le qualità ci sono ma abbiamo solo voglia, dobbiamo avere voglia e dobbiamo crederci. Quando ci crediamo abbiamo questi risultati. Anche quando mancano presenze come Saro o Bateau abbiamo dato il massimo. Si punterà una salvezza tranquilla adesso? Sì, l'obiettivo è la salvezza ma nel nostro cuore rimangono sempre i play-off. Quindi proviamo in qualche miracolo. Ovviamente ci mettiamo il nostro. Ad un solo punto dalla zona play-off, l'Iblea 99 nel campionato di calcio a 5 Serie C2 è attesa da quattro partite proibitive. Si inizia sabato con lo scontro diretto a Mister Bianco. Un'Iblea è un'Iblea che non smette di vincere. Abbiamo, è vero, abbiamo partito male ma abbiamo affrontato un girone in ritorno diciamo al di sopra delle aspettative. Abbiamo conquistato su 9 partite, abbiamo conquistato 14 punti quindi abbiamo vinto per ben 7 volte. Adesso ci ritroviamo praticamente a poter coronare vicini, a poter coronare il sogno dei play-off a un solo punto dal Camarina. Adesso ci troviamo ad affrontare, ci saranno altre quattro partite e non saranno del tutto semplici ma diciamo che arrivati a questo punto non possiamo più abbandonare il sogno dei play-off. Chissà magari iniziando a vincere il Mister Bianco. Beh sì, il Mister Bianco è una squadra che si è difesa, è una bellissima squadra. Ci giocheremo ecco, dipenderà tanto dal risultato del Camarino, ci giocheremo lì l'accesso ai play-off. Arrivato a questo punto non è male sognare per i play-off però voglio sempre ricordare di stare copiti a terra perché abbiamo quattro partite molto difficili e quindi non sarà una passeggiata perché sono quattro squadre ben organizzate in cui sono lì su in alto la classifica. Già da sabato abbiamo una partita molto difficile perché giochiamo contro la nostra dieta concorrente che ha pari punti con noi a 38 punti quindi non sarà per niente una partita facile. Vincere lì a Mister Bianco sarà molto difficile però non per questo bisogna partire con un piede già scoraggiato. Non per niente, la mia squadra non è così, sono abbastanza fiducioso perché in tutto il campionato ha lottato. Fino alla fine non per niente abbiamo fatto un bel po' di vittorie e anche alla fine non mollare mai, crederci sempre. Abbiamo fatto anche un bel gioco e abbiamo creato anche difficoltà a tantissime altre squadre che non si aspettavano il nostro tipo di gioco abbastanza con la pressione ad aggredirli sempre e costantemente. Però questo devo ringraziare anche al fisioterapista Piero Gometini perché è il nostro preparatore atletico perché ha preparato la squadra per poter fare questo mio tipo di gioco in cui è abbastanza dispensioso a livello fisico. Per questo do una nota di merito a lui perché senza di lui non avrei potuto fare il mio tipo di gioco e creare problemi alla squadra. Quindi chiudendo speriamo, speriamo ripeto di raggiungere questi famosi playoff però se non dovessimo farlo faccio sempre un commento alla mia squadra perché l'obiettivo nostro era la salvezza. E adesso dato che siamo a questo punto ci aggiochiamo tranquillamente senza nessuna pressione, nessuna responsabilità che se vada male ci dobbiamo mangiare. No, ce la giochiamo, come viene ce la prendiamo tutto qua.